Orlandina tra campo e scrivania. Il glorioso Soladizio Paladino è attualmente impegnato su due fronti, agonistico con il campionato di Serie D giunto alla sesta di andata e societario per evitare di scomparire. Le cose, inutile dirlo, sono strettamente collegate. Dopo aver cambiato un allenatore e vinto la prima gara della stagione domenica scorsa contro la Tiger, per i Biancazzurri è iniziata un'altra settimana di passione. Antonio Alacqua, che ha raccolto il testimone da Victor Pasulco, sta lavorando con i giocatori che gli sono rimasti dopo la partenza già annunciata di ben sei elementi. In attesa di un centrocampista e di un attaccante degni di tal nome, il tecnico di Spadafora per la trasferta di Marcianise potrà contare su Salvatore Treppiedi, centrocampista classe 94 lo scorso anno al Due Torri, arrivato martedì pomeriggio. Certamente, Alacqua non potrà affrontare le giornate che mancano alla riapertura del mercato con i giocatori rimasti, quindi la società è chiamata ad intervenire subito con l'acquisto degli svincolati. Ma la dirigenza, così come ha annunciato, è anche impegnata a snellire i costi di gestione, poiché in queste condizioni difficilmente riuscirà ad uscire fuori dal tunnel. È praticamente come il cane che si morde la coda. Le scriteriate scelte, fatte già in fase di programmazione e proposte come vincenti e avveniristiche nel mese di luglio, sono oggi un fallimento secco. Affidarsi a chissà quali procuratori, ad un allenatore straniero, ad un ritiro a Torre del Grifo è servito praticamente a nulla. Zero, anzi tre, i punti conquistati in cinque turni. L'Orlandina oggi è una società che naviga a vista e che, stando ebbene informati, sta cercando disperatamente risorse economiche per arrivare almeno alla fine del 2014. In questo trambusto generale Antonio Alacqua, il professore Ignazio Princiotta e qualche altro volontario all'interno del gruppo dirigenziale stanno lavorando per organizzare il classico matrimonio con i fichi secchi. La sopravvivenza del calcio a Capodorlando è sempre più appesa a un filo. La speranza è che sia di acciaio temperato.